Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi una video lezione un po' speciale, direi quasi di bon ton, buone maniere. Innanzitutto mi scuso per questa patacca che ho sul mento, ma mi appunto l'insetto sbagliato, portate pazienza e cercherò di darvi il mio lato migliore. A parte gli scherzi, l'ispirazione oggi mi è venuta perché con mia sorella Clara sono andata a Milano a fare una gita fuori porta, shopping, cibo milanese, musei bellissimi, abbiamo visitato Palazzo Brera, il Museo del Risorgimento, l'Orto Botanico, è stata davvero una giornata interessante. Tuttavia il viaggio in treno di ritorno è stato un po' spiacevole, quindi per questo vorrei darvi dei consigli su come ci si comporta in treno e più in generale sui mezzi di trasporto pubblici, quelli in cui insomma non siete da soli, perché magari non ci fate caso, ma ci sono certi atteggiamenti che possono dar fastidio alla persona seduta a fianco a voi. Per esempio, eravamo seduti su posti da quattro, mia sorella aveva a fianco un uomo che continuava a lamentarsi perché nella carrozza c'era un bambino con sua madre, un bambino con sua madre che insomma strillava per giocare e questo signore continuava a dire mamma mia, questo bambino ma non può urlare meno forte, ma così, ma così, insomma, continuava a lamentarsi, però lui in compenso aveva il cellulare impostato con il volume altissimo, continuava a suonargli perché evidentemente era un uomo d'affari che tornava a casa da una giornata di lavoro, ha passato tutte le ore del viaggio a parlare a quel telefono e non era uno, erano due e anche a voce alta e vi dirò che io stavo tentando di dormire e mia sorella invece vedeva in pericolo il suo spazio vitale perché quest'uomo continuava con il suo gomito a spintonarla. Il mio primo consiglio quindi è abbiate rispetto della persona a fianco, cercate di sfruttare lo spazio a vostra disposizione senza invadere quello altrui a meno che insomma non ci siano impedimenti fisici di qualche sorta, per esempio ricordo una volta che ho fatto tutto il viaggio in una corriera schiacciata come una sardina perché la signora a fianco mio evidentemente aveva dei problemi, era in sovrappeso, magari proprio problemi insomma di natura medica e io passo tutto il viaggio con lei addosso a me ed è stato davvero difficile perché oltretutto faceva caldo. Quindi rispetto degli spazi altrui, in secondo luogo mettete silenzioso il cellulare, tenetelo in vibrazione in modo che non vi perderete nessun messaggio, nessuna telefonata, però ragazzi non il telefono rumoroso perché sennò tutta la carrozza sentirà i fatti vostri, non è piacevole né per voi perché vedete violata la vostra privacy né per l'altra persona perché insomma le altre persone intendo in generale perché agli altri cosa interessa dei fatti vostri? In secondo luogo cercate di limitare le telefonate o comunque di tenere un tono di voce che sia insomma basso, io per esempio dico sempre ciao nonna guarda sono in treno, sono in corriera, non posso parlare la voce alta, mia nonna appunto la vita mi risponde, eh cosa? Però insomma si mette la buona volontà di parlare piano. Altro consiglio, non fate gli scostumati, state ben vestiti. Mi ricordo una volta, e grazie al cielo, oggi non è stato il caso in cui una famiglia di turisti ha fatto tutto il viaggio in treno, è stato quel famoso viaggio che ha fatto in TGV per andare a Parigi a gennaio, senza scarpe, con i piedi buttati sui sedili a fianco, insomma una cosa, e i bambini andavano in giro per la carrozza del treno in calzini bianchi per terra, così come se per terra fosse pulito oltretutto. No ragazzi, agli altri persone non interessa sapere di che colore sono i vostri calzini, quindi cercate di tenere una postura corretta, anche perché sennò insomma è maleducazione. Stessa cosa vale per la mimica facciale, sto parlando in particolar modo degli sbadigli, la gentile signorina seduta a fianco a me oggi sbadigliava e mostrava a tutti la propria caverna, senza pudore, mai messo una mano davanti alla bocca prima di sbadigliare, non ho detto stannutire vero, prima di sbadigliare, non ha mai messo la mano davanti alla bocca, cioè adesso vedere di che colore è la vostra ugola non è interessante per nessuno, quindi cercate di contenervi, se vi viene da sbadigliare io ho anche un po' dormichiato, non lo nego, infatti ho russato Clara? No, non russo però non si sa mai, e cercate sempre di farlo con... è brutto per esempio anche vedere una persona che dorme e stare con la bocca spalancata? No, no, non siete da soli, non potete permettervi di fare cose che magari da soli fareste. Ultimo consiglio, così come non dovete invadere gli spazi degli altri con il vostro corpo, non dovete farlo neanche con le vostre cose, la gentile signorina seduta a fianco a me oggi, finché dormivo mi ha rovesciato la bottiglia di acqua, grazie a Dio chiusa, addosso, e naturalmente mi sono svegliata un po' di colpo, quindi attenzione a gestire bene anche tutti gli oggetti che mettete sopra i tavolini o che tenete in mano, perché potrebbero malauguratamente cadere addosso al vostro vicino che potrebbe non gradire. Benissimo cari amici, con questa è... no, beh lascia stare, tanto basta solo che dopo io taglio. Penso di avervi dato la maggior parte dei consigli che ritengo indispensabili per poter viaggiare senza il pensiero di mancare di rispetto alle altre persone, insomma mantenendo quindi una buona educazione, se ve ne viene in mente qualche altro lasciate un commento qui sotto, sarò molto contenta di chiacchierarne insieme a voi e poi potrebbe essere utile anche per altre persone. Non dimenticatevi inoltre di lasciarmi un commento anche solo per salutarmi, di mettere un bel like alla mia pagina Instagram, alla pagina pubblica di Facebook e di seguirmi qui nel canale YouTube. Se avete altre video lezioni da richiedermi, così come state già facendo in molti, non esitate a farlo, contattatemi pure, le farò quanto prima. E con questo vi auguro una buona serata.